C'è il quintetto invece della Sega Freddo, vede già in quintetto Olbis Andrea, non vede nel quintetto di partenza, la vediamo anche con una felpa che non si è riscaldata. Iliana Ruppert conclude il quintetto, Cinili, Zandalasini, Laksa e Ivana Dojkic. Palla 2, vinta dalla Sega Freddo, apertura subito per Ivana. È stata uscita la notizia di un grano infortunio per una lesione. Mette giù il pallone blocco di Olbis Andrea, bellissimo, arresta e tiro. Sì, sblocca la Sega Freddo dopo. Olbis Andrea, blocco ancora della numero 22, Laksa da 3 punti. Si attende l'uscita dai blocchi della giocatrice Letton che riceve, non i piedi sicuramente a posto. Il corpo era a forma di Escarico da parte di Reggiani, il tap out, ma alla fine il pallone gli cade comunque in mano. Riesce a consegnare il pallone alla propria compagnia di squadra che con due... Girare molto bene il pallone sull'arco, la Sega Freddo, poi Barberis. Il difensore centrale ad aiutare sulla penetrazione. E di buono però in attacco, altra palla persa per Moncalieri. Pasa per il più facile dei canestri. L'appoggio è il primo... A me lo dici? Brava! Tanto, bravissima! Zandarasini... Tripla! A me lo l'uno due, poi troppa poesia... Orsini! Mette tutti d'accordo! Quarto totalmente italiano... Pasa! Wow! Il primo tempo sul largo vantaggio... Jesse Mitchell non ci sta! La stoppata preferisce tornare fuori da Westbilt. Reggiani trova lo spazio, scarico per Westbilt. Extra pass per Mitchell. Tripla! Zandarasini, finta di andare a destra e poi... Insacca la tripla! Poi scarico per Landi che alla fine va con la mancina ad appoggiare il... Dove noi rimaniamo... Ah no, era per Cinelli, hai ragione. Bravo! Tanto Dolkic recupera... Zandarasini, blocco di Barberis. Zandarasini, tripla! Che sei soldi! Questo? Barberis... Brava! Wow! Meadrice Barberis! Molto intelligente. Assolutamente sento. Poi anche Landi che trova una bellissima palla. Baglia come si dice a Boronio. Esatto, intanto Pasa. L'imbalzo sempre per Moncalieri che gira molto bene con un dentro e fuori. Per poi la tripla della numero 5. Forse con anche qualche contatto. Eccola qui Westbilt per Mitchell. Sempre con grande... Classe 2004. Grazie. Intanto... Alessandro Rossini. Chiedo... Garbage time. E intanto... La tripla! Del Pero da tre punti! Potrebbe... Numero 22. Step back di Del Pero che non è un tiro ma è un passaggio per... Alvis Andrè è bellissima. Termini con la palla in mano per la Segafredo che vince e convince e continua a vincere dopo la vittoria con Schio in casa e Lucca in trasferta la scorsa settimana. Con l'Olimpiakos battuta nel mercoledì sera qui al Paladozza. Vince la Segafredo Bologna per 69 a 46 contro Acronos Moncalieri. Con l'Olimpiakos battuta nel burro d'شiklip gratis. Con l'Olimpiakos battuta là attenzione,その me costumes e bucks Taiwan. Con l'Olimpiakos battuta nella giù Allerio. Tras la alegria assagante nella scusa insomma remitta alla stompe. Conte la Testforata e Run UE 1